Festival di Sanremo 2024, adesso io non so chi sia lui, mi si è palesato con degli amici qui al festival, in realtà è uno dei sei ragazzi con i quali faremo una partita bellissima di calcetto dopo aver cantato al Festival di Sanremo. Allora ragazzi, benvenuti, un bel inizio, avete cantato, buongiorno, allora presentatevi, chi è B, chi è N, chi è K, allora presentatevi perché il pubblico di Radio 1 vuole conoscervi. Io sono Jackson, Erin, Fuster, Kaff, Piccolo, Fares. BNKR44 hanno portato anche a Radio 1 il loro governo punk, allora spiegateci bene come funziona un governo punk, perché noi siamo curiosi. Un governo punk è il nostro bunker, è la zona gestita da noi e dai nostri fratelli che ora non ci sono, che si autogestiscono la zona in cui viviamo e lavoriamo. E come gestite questa zona, visto che siete in tanti? Non è facile, non è facile. Molta anarchica come cosa. Abbiamo un calendario della spazzatura e ogni mese ci sono quattro addetti per gettare la spazzatura. L'unica regola, poi puoi fare quello che vuoi, però devi buttare la spazzatura. Avete capito che questi ragazzi sono qui a Sanremo, si stanno divertendo, l'esibizione immagino sia stata un'emozione pazzesca. Grandissima, enorme, bellissima. E poi è bello perché, leggevo, voi avete voluto portare anche in questa canzone la provincia, la provincia italiana. Certo, certo. Sì, il pezzo parla un po' della storia di un ragazzo che vuole di più dalla provincia, raccontata un po' con queste immagini e metafore, ecco. Ma i ragazzi italiani vi piacciono? Oggi, nel 2024, come sono i ragazzi italiani di oggi? Non sono le ragazze, però anche i ragazzi sono dei bei ragazzi, diciamo. Voi avete capito che non è facile fare un'intervista a questi qui, però noi ci stiamo provando solo per voi e li abbiamo qui. No, i ragazzi di oggi, voi come li vedete, perché si parla a volte tanto male, a volte si dicono, ma no, ma i ragazzi di oggi in realtà sono proiettati nel futuro, ma no, i social li stanno un po' rimbambendo. Diciamo che i ragazzi di oggi sono grandi sognatori e sono anche molto bravi, però magari tanti sono un po' insicuri. Tanta insicurezza. Quindi voi quando vi trovate in un bunker, immagino qualche anno fa, immaginavate tutto questo? L'avete pensato? No, certo, assolutamente no. Non immaginavamo neanche di fare un disco insieme, in realtà. E quindi in questo momento qual è l'emozione che state provando? Forte, adrenalina. Direi anche unione, ecco, ci sentiamo uniti più del solito. E allora perché un ragazzo o una ragazza dovrebbero ascoltare la vostra musica? Diamo un bel motivo a chi ci sta ascoltando e a chi ci sta guardando. Boh, perché siamo tanti, sprigioniamo tantissime emozioni diverse, di conseguenza è molto probabile che chiunque possa rispecchiarsi nella nostra musica. Bene ragazzi, io con questa affermazione di lui che sicuramente è uno di quelli dei leader, io vi ringrazio ragazzi, ci rivedremo, vi rivedremo sul palco del teatro dell'Ariston e un saluto a tutti gli amici. Loro guardate ragazzi, adesso dimentichiamoci, però loro sono qua, sono così, sono Viola, sono tifosi della Fiorentina, anzi volete fare, ne approfittiamo. Mandate un saluto a David Guetta che so che voi seguite. Un saluto a David Guetta che io ti ascolto sempre, davvero fiorentino, prima di ogni partita, non sai. Ci vediamo in Fiesole. Bene, adesso noi vi lasciamo perché abbiamo la partita di calcetto, andiamo giù nel bunker e poi con i ragazzi. Mi raccomando seguiteli, ascoltateli e poi presto andate a vederli anche dal vivo. Vamonos!